Sempre ovviamente un bel momento perché questo è il lavoro che si sceglie prevalentemente per la passione, quindi stare in mezzo ai libri, a contatto con i lettori, sembra così molto banalmente, mi scuserete, di tornare almeno in superficie alla normalità a cui tutti tendiamo. Dalle librerie alle cartolibrerie, passando per i negozi di abbigliamento per bambini, questa è l'attività a cui è consentita la riapertura e che questa mattina hanno rialzato le loro saracinesche in una città che resta comunque semideserta. La sensazione è strana perché la gente in giro non c'è, però insomma si prova a fare dei piccoli passi per andare avanti e un po' insomma riprendere la vita non normale ma insomma bisogna anche un po' reagire, via. È sicuramente un modo per poter stare vicino alla gente e alle persone che si ritrovano chiuse in casa e passare un po' di tempo per leggere qualcosa di bello insomma. Anche ad Arezzo è così iniziato il percorso che porterà ad un lento e graduale ritorno alla normalità, ovviamente con abitudini da cambiare e nuove regole da rispettare. Sicuramente la sanificazione della libreria, la pulizia ovviamente costante ma questo ovviamente faceva sempre parte del lavoro quotidiano, l'obbligo delle mascherine e dei guanti che chiediamo anche ai nostri clienti ovviamente di rispettarlo, e le distanze di sicurezza che sono molto importanti e che noi insomma abbiamo segnato per mantenere delle file più possibili ordinate, il contingentamento dell'entrata delle persone che sarà ovviamente per evitare affollamenti o comunque insomma il fatto di non poter rispettare le distanze di cui si parlavano, queste insomma sono le principali norme, insomma la reazione degli ambienti. Queste prime aperture potrebbero rappresentare un primo banco di prova della cosiddetta fase 2. L'ipotesi principale resta infatti quella di una graduale cadenzata riapertura di tutte le attività. A pubblicare un'ipotetica scheletta di ritorno alla vita era stata l'assessore del comune di Arezzo, Lucia Tanti. Ho postato una cosa che gira in rete, che non è né scientifica né istituzionale, ma è una cosa che in qualche modo dà una ipotesi di tempistica, non aveva nessuna intenzione di dare delle regole perché abbiamo imparato una cosa, che solo i decreti hanno valore, addirittura non hanno valore neanche i comunicati della presidenza del Consiglio finché non arriva un decreto. Ci sono alcuni settori, tipo quello scolastico, che preoccupano poco rispetto a quanto dovrebbero perché specialmente nel segmento 06, cioè laddove i bambini hanno una modalità diversa di apprendimento rispetto ovviamente a segmenti più alti, quindi a segmenti legati alle scuole materne, elementari, medie e ancora alle scuole superiori, si pone il problema di come gestire un rientro anche a settembre.